Ci sono delle convenzioni importanti che devono essere poi dopo recepite dal nostro sistema giuridico, devono essere interpretate ma soprattutto devono essere applicate. Ecco, l'obiettivo dell'iniziativa ad oggi è intanto di farle conoscere e poi impegnarsi tutti, fin da luoghi di lavoro, non solo a perseguire ogni forma di violenza, ma a fare una formazione, un'informazione capillare e necessaria perché come parti sociali possiamo svolgere un ruolo attivo, soprattutto a recuperare un gap importante che c'è in questo Paese. Un confronto partendo dalla Convenzione 190 adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro il 10 giugno 2019 ratificata dall'Italia nel 2021 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Ecco, un Paese civile si deve interrogare su come si offre a tutti una pari opportunità e la dignità partendo dal luogo di lavoro di potersi caratterizzare e inserire in un contesto di società e pretendere il rispetto dei propri diritti. A promuovere il seminario i sindacati confederai CGL, Cisleguil, la provincia e la consigliera provinciale di parità in collaborazione con il Centro Studi Discriminazioni di Pisa. Con il seminario di oggi abbiamo voluto parlare delle discriminazioni di genere all'interno dei luoghi di lavoro perché spesso queste discriminazioni vengono fatte nei confronti delle donne che hanno appena partorito. Spesso non vengono applicate tutte le norme e si cerca di fare in modo, nonostante non esistano più le dimissioni in bianco e che sono state cancellate per legge, comunque di aiutare le donne ad uscire dal mercato del lavoro. Ecco, oggi siamo qui anche per questo, per cercare di prevenire le condizioni, le norme ci sono, dobbiamo imparare anche come organizzazioni sindacali a lavorare meglio nei luoghi di lavoro affinché queste cose non succedano ed emergano e vengano denunciate nel momento in cui ci sono.